La sveglia alla politica locale sul futuro della montagna aquilana la suonano oltre 5.000 aquilani che hanno sottoscritto le petizioni lanciate dalle associazioni Save Gran Sasso e Progetto Montagna con le quali si chiede di intervenire sia nella revisione dei confini esterno del Parco Gran Sasso rigadenti in ZAPS e l'altra per rivedere i dettami della direttiva Natura 2000 che insiste dentro all'aeraparco. In tutto 10.000 firme per chiedere insomma che i vincoli di lacciuoli europei vengono messi da parte per procedere ad una pianificazione dello sviluppo montano ormai attesa da anni e che sicuramente dovrà essere argomento di campagna elettorale in vista delle prossime elezioni amministrative. Intanto raggiunto dal Consiglio attuale i promotori della petizione chiedono qual è la loro idea di progettualità per lo sviluppo montano ed evitare il definitivo spopolamento del Gran Sasso. Noi chiediamo un Consiglio Comunale proprio sulla questione visto che ci sono 10.600 firme al momento. Qui c'è intanto delle direttive europee che sono state messe senza interpellare la popolazione. Tanto è vero che c'è una famosa nota della Regione Abruzzo che comunica i SIC al Ministero dell'Ambiente confessando che non sono nemmeno stati deliberati dalla Giunta e nemmeno pubblicati sul Bura. Quindi è una cosa vergognosa. E qui ci sono 10.600 firme che chiedono invece la discussione e la condivisione di questi vincoli perché non se ne può più. Solo qualche tempo fa però il Vice Presidente della Giunta regionale Lolli aveva tentato di rassicurare tutti spiegando che sì, gli impianti di risalita si sarebbero realizzati e che le norme europee non costituiscono un ostacolo al rilancio del compensatorio sciistico in montano del Gran Sasso. Il Vice Presidente è convinto che con il piano del parco si risolve tutto però purtroppo ancora non si capisce una cosa. Il piano del parco è una cosa. Le direttive europee sono un'altra. Cioè sono vincoli che non hanno nulla a che fare con il parco. Il parco è il gestore di questi siti comunitari. Il piano del parco fa sì che solo che vengono interrotte le misure di salvaguardia della 394 che è la legge guarro sui parchi. Le direttive sono un'altra cosa che vanno ad incidere in un'altra maniera.